Ciao. Ciao. Conosci Galaxus? No. Neanche lui. Neanche lei. Lei. Neanche lei. Lo sa che cos'è Galaxus? Cosa? Galaxus. Ehm... Ehm... Tipo uno della Marvel, forse. Un super cattivo, mi pare, sì. Telefoni. Un negozio? E' uno snack. E' una marca? Galaxia o qualcosa con latte, Galax. Non lo so, dimmi tu. No, io la sono bella. Una rivista. Mmm... Cioccolato. Un brand di fashion super futuristico. E' da mia mamma, perché sennò... Buongiorno. Buongiorno. Mi stanno riprendendo, per esempio, su i gioielli. E' un progetto green, diciamo, in giro per il mondo. Tecnologia... Ehm... Mischiata con la scienza? Astronave. Mmm. Qualcosa di tecnologico? Zigarette elettroniche? Non lo so, un negozio? Un cantante? Sì. Grazie. Un cattivo dei Fantastici Quattro. Mmm, ma dai. Grazie, ragazzi. Tranquillo. Buonasera. Qualcosa... File Metoverso? Qualcosa di spaziale. Galaxus? Sì. Non lo so, però mi intriga il nome. Passo. uingos per te. Noà a te... scanè, va. Chao... Chiara... Chiara... Tu...